Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video in cui vi porteremo quattro giorni a Corvare in Badia, in Alta Badia e in questa avventura ci ospiterà l'hotel Coll'Alto che ringraziamo fin da subito e che vi faremo vedere nei video successivi ora siamo in macchina, siamo a Cincin Nig e ci vediamo dentro all'hotel Siamo arrivati qui in centro del Corvara e ora andremo a fare un giro in centro finché non ci preparano la camera Nella fine per mangiare mi ho deciso di andare in quota a sopra Coll'Alto, mi ho preso l'uvovia per chi vuole anche fare più giri durante la settimana c'è la possibilità di prendere tipo una carta punti e risparmio un po' insomma ecco per cui dopo lì ci sarà una vista fantastica ce l'ho detto per cui vi faremo vedere come potete notare ci siamo andati a mangiare con l'alto e è iscritta alla Guita Michele 2020-2018 e abbiamo mangiato come avete visto qui i due primi eccoci qui e ci hanno dato la stanza dell'hotel che vi faremo vedere ora ok qui all'inizio abbiamo un tavolo da lavoro abbiamo un piccolo divano per rilassarsi vedete il letto qui abbiamo prima del bagno un grandissimo armadio fatto con legni di abiti qui della zona andiamo dentro il bagno che è molto spazioso una doccia enorme anche qui hanno applicato il dispenser proprio per una questione per utilizzare la meno plastica possibile abbiamo la vasca enorme un super specchio come potete vedere siamo pronti a provare la spa come potete vedere siamo pronti a provare la spa bene oggi abbiamo finito anche il relax domani vi porteremo in una passeggiata qui nei dintorni, in teoria facciamo un giro Mike, vediamo domani cosa facciamo. E ora è ora di cena ovviamente e andiamo a vedere cosa ci preparano, siamo curiosi. Abbiamo terminato la cena, avete potuto vedere in velocità i piatti che ci hanno dato, servizio direi 10 come direbbe il buon Alessandro Borghese, 10. Niente, per oggi chiudiamo qui che dobbiamo ricaricare il pilo perché domani andremo a fare una bella passeggiata per cui ci vediamo domani. Buongiorno, secondo giorno qui a Corvara, siamo svegliati da poco, ora si fa fare colazione e poi faremo il giro delle Mike che abbiamo trovato in internet qui a Corvara e vi porteremo con noi a scoprire questo percorso. Non è tanto di salita Giulia adesso, pronta? Sì, vediamo tra un po'. Abbiamo preso un po' d'acqua e ora si parte per il col alto che ieri abbiamo fatto con la funivia, a parte già tante salita però dai 1 ora e 30 e siamo su. Siamo ancora nel primo percorso e purtroppo è stato più duro del previsto e non è ancora finito. Un bel po' più duro del previsto. Mi ha fatto volare un po' il drone che vedrete tra poco le immagini su un posto fantastico, però ne valsa forse la pena tutta sta fatica. arrivati, prima tappa dove inizia il nostro giro praticamente. Com'è andata? Consigli per la camminata? No, è una bellissima camminata, la vista è super, è un po' difficile perché non è molto allenato, la scorsigliamo un pochino. La vista merita... La fatica, brava. Adesso è meglio che andiamo a vadoci al panino. No, è una piazzetta. Allora una volta arrivati al rifugio con l'alto, si scende, si prende il numero 23 e si prosegue fino al rifugio Pit Alara. E vorrei dire che è un po' più leggera rispetto alla salita di prima. Esatto. Quindi è più partibile. iniziamo un po' più partibile. al pizza a Lara e la Giulia si è ubriacata no non è vero e ora siamo in direzione nel rifugio Pra Longia penso l'ultimo rifugio che passeremo oggi e poi sarà tutta discesa fino a Corvara Grazie a tutti Grazie a tutti